Sto per fare delle stories dove mi voglio togliere non dei sassonini dalle scarpe, ma dei sassi veri e propri dalle scarpe. Non è da me poi cercare attenzioni o creare scalpore sui social perché non sono quel tipo di persona. Però ci tengo a raccontare delle cose che per me non esistono e non devono esistere. Sono nera, sono veramente nera, quindi vi spiego che cosa è successo ultimamente. Circa tre settimane fa sono stata accusata, e non è la prima volta che mi è successo, sono stata accusata di non aver fatto selfie con una bambina scesa dal palco, scesa dal palco di battiti. Quando invece ho le foto che fanno vedere proprio che io serenamente, come sempre, e mi faccio le foto con tutti perché sono questa persona. Ma questo è stato una fake news che ha fatto il suo giro patetico sul web perché si tratta di pagine di quattro spicci, capito? Proprio quelle pagine lì che, poverini, non sanno come aumentare il loro algoritmo, sai, non sanno come generare commenti sui social, ma la cosa che più mi dà fastidio è che tu non attacchi, non è che stai attaccando solo me in quanto persona, perché lo sai che io adoro i bambini e i bambini mi adorano, loro lo sanno, non mi taggano perché non hanno le palle per taggarmi, ma l'idea è che strumentalizzano i bambini per avere qualche commento in più e aumentare il loro stupido algoritmo su Instagram. Questa cosa è così lontana dalla verità che io, infatti, l'altro ieri, sono andata a Teramo e dopo lo show, continuo, dicevo, la polizia che è lì proprio per gestire e mantenere l'ordine ha deciso di fare il contrario del suo mestiere, ha aperto le transenne in questo poco spazio che c'era tra il van mio e appunto le transenne in un terreno totalmente dislivellato dove io continuavo a cadere, cioè a storcermi la caviglia, insomma era proprio un terreno anche impossibile proprio da calpestare, si è creata una tale calca, avevo bambini e bambine che mi arrivavano al ginocchio e continuavo a dire qua qualcuno si fa male, qualcuno si fa male, non possiamo stare qua, non possiamo stare qua, ma a nessuno io ne frega niente di niente perché la cosa più importante è farsi una foto, farsi una foto, ma questa cosa diventa molto pericolosa per tutti, per tutti, in questa occasione sono stata caricata da una donna, questa donna mi ha caricato così forte, in maniera così forte che ho subito un trauma al seno, per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore, sono andata in ospedale e mi hanno detto che vabbè, sono nera, sono nera, devo cancellare i prossimi show, molti sono show esteri che stavano andando benissimo, ho aspettato otto anni per fare questi show all'estero, il punto che voglio fare è questo, la mia non è una lamentela nel fare le foto, io sono solo felice, felice di guardare le persone negli occhi, vedere queste facce sorridenti che non vedono l'ora di farsi la foto con me, io amo i bambini, amo le persone che mi vogliono bene, è una cosa che mi fa stare bene mentalmente, mi fa bene al cuore, però c'è una cosa che sta sfuggendo di mano, non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto, non è possibile costantemente rischiare delle situazioni di follia, delle situazioni di grandi pericolo per delle foto e che questa cosa non interessi a nessuno tranne che a me, perché ci sono persone addette alla sicurezza che non ce la fanno e addirittura ritrovarmi che sono le forze dell'ordine a creare questo caos, perché se mai sia, se io scappo, perché è troppo pericoloso, io mi ritrovo articoli dove le persone sono lì sotto a commentare quanto sono una merda, quanto io sia una persona del cazzo, cioè insulti a non finire su di me la mia musica, tutto. Vi spiego perché è inaccettabile, perché mai sia, mai sia, e faccio le corna, mai sia, questa volta mi sono fatta male io e sono, no, dispiaciuta di più, sono stata ieri tutto ieri a piangere innanzitutto dal dolore, perché non potete capire che cosa significa avere liquido tutto attorno al seno, al petto, che ti arriva pure fino all'esterno, non riuscivo a muovermi, oggi riesco a fare questo, ma ieri no, non riuscivo nemmeno a parlare, nemmeno a camminare, adesso cammino con fatica e sono molto lenta, però non è possibile che questa cosa interessi solo a me e che mai sia, se non ero io a farmi male, ma se era una bambina o un'anziana o una signora, che cosa dicevate di me? Che cosa andavate a dire e a scrivere? Io mi immagino il delirio e le colpe e le cose, le cattiverie che uscirebbero fuori o potrebbero uscire fuori davanti a una notizia del genere, capito? che un'artista crea il panico, che una signora, un bambino si fa male, l'artista prende, scappa, se ne va, la sicurezza non è una responsabilità nostra, non lo è, io in tutti questi anni, vi voglio raccontare un'altra cosa, io in tutti questi anni per fare le foto sono stata palpeggiata, strattonata, strozzata, spinta, insultata, ciò nonostante io le foto le faccio comunque, comunque, ma la sicurezza prima di tutto e la sicurezza non è una mia responsabilità, mai sia, mai sia che questa cosa venga attribuita a me. Ultima story, se poi vi lascio, io chiedo la grazia, l'intelligenza e anche la bontà a tutte quelle persone che hanno voglia di divulgare le mie parole, quello che vi pare, potete farlo, non lo dovete fare, a me a me frega niente, io sto parlando ai miei fan, a chi mi vuole bene, però se dovesse capitare e se dovessi leggere qualche titolo di merda, questa volta non me la faccio andare bene, che sia molto chiaro, qua non c'è da distorgere alcuna mia parola, questa non è una lamentela verso chi si vuole fare foto con me, di chi mi vuole bene e vuole scattare un foto, ricordo con me, perché a me guardare le persone negli occhi e ricevere affetto mi fa solo bene, ve lo posso dire, nei momenti più bui queste cose a me fanno bene, quindi veramente ve lo chiedo, ve lo chiedo di capire il messaggio, la sicurezza prima di tutto per evitare futuri disastri.